Prepariamo le merendine allo yogurt con marmellata. Abbiamo bisogno di 3 uova, 150 g di zucchero, 200 g di farina 00, 50 g di fecola, una bustina di lievito per dolci, 80 ml di olio di semi, 250 g di yogurt bianco o al gusto che si preferisce, un cucchiaino di miele, un pizzico di sale e marmellata a piacere e quanto basta. Cominciamo mettendo il cucchiaino di miele nello yogurt e mescoliamo. Setacciamo la farina, la fecola e il lievito insieme. Ci aggiungiamo poi il pizzico di sale. Cominciamo ora a preparare la torta. Mettiamo le uova nella planetaria o in una terrina e sbattiamo con le frusse elettriche insieme allo zucchero e montiamo fino a che il composto non risulta chiaro e spumoso. Quando le uova risultano chiare e spumose aggiungiamo l'olio a più riprese e lo yogurt e continuiamo a far lavorare. Quando lo yogurt e l'olio si sono ben incorporati aggiungiamo piano piano la farina. Amalgamata bene tutta la farina mettiamo il conforso in una teglia rettangolare. Io uso una teglia 20x26, non deve essere molto grande. Versiamo bene il composto e inforniamo in forno già caldo a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Fare comunque la prova a stecchino. Quando la torta è cotta e si è freddata possiamo dividerla a metà. Mettiamo un bello strato di marmellata e richiudiamo. Decoriamo con delle strisce di carta forno che daranno l'effetto dove non c'è lo zucchero a velo e mettiamo abbondante zucchero a velo. Ora tagliamo la torta per farla diventare le merendine. Tagliamo prima a metà e poi in tanti rettangoli. Ed ecco come appare la nostra merendina allo yogurt con marmellata.